Stai pensando di vendere casa? Prima di affidare l'incarico fai questa semplice domanda. Chiedi all'agente immobiliare qual è il prezzo massimo di vendita del mio immobile e come lo stabilisci? E se già durante il sopralluogo ti risponde con una frase tipo Secondo la mia esperienza questo immobile può essere venduto massimo a... E ti spara una cifra senza aver fatto un minimo di analisi della zona. Fai attenzione. Secondo l'UMI nel 2022 un immobile su quattro è rimasto invenduto per un prezzo sbagliato. Se richiedi un prezzo troppo alto rischi di non vendere. Se richiedi un prezzo troppo basso rischi di svalutare l'immobile e perdere soldi. Ecco perché noi dalla Rubini Immobiliare prima di mettere in vendita un immobile prepariamo sempre un documento con i prezzi di immobili simili già venduti nella tua zona. I prezzi di quelli ora in vendita e ti diciamo anche se hanno avuto nel tempo dei ribassi e da quanto tempo sono sul mercato. Le nostre migliori indicazioni per ottenere il massimo dalla vendita. Perché facciamo tutto questo? Due motivi. Aiutarti a valorizzare il tuo immobile senza errori. Mostrarti come lavoriamo. Il tutto senza impegno e senza vincoli. Ora non voglio dilungarmi, voglio solo informarti che affidandoti a noi c'è anche un'offerta riservata per te. Clicca ora sul link e richiedi per il tuo immobile il nostro report.